Ciao a tutti! Sono tornato con un altro tutorial. Oggi ti mostrerò come utilizzare gli adesivi di WhatsApp. Quindi ora, iniziamo! Quindi, prima di tutto, vai avanti e apri l'applicazione WhatsApp. Vai avanti nella finestra della chat e chatta con qualcuno che desideri utilizzare l'opzione adesivi. Tocca la finestra del messaggio. Come puoi vedere c'è un'icona a forma di adesivo qui, quindi tocca semplicemente quell'icona. Come puoi vedere, qui ci sono un sacco di adesivi tra cui scegliere. Puoi anche aggiungere altri adesivi. Basta toccare il pulsante più in alto. Come puoi vedere, tutti gli adesivi sono disponibili in confezioni. Quindi in pratica devi scaricare diversi pacchetti. Per scaricare, devi solo toccare il pulsante di download proprio accanto ad esso. Quindi torniamo alla chat e premiamo l'adesivo ancora una volta. Come puoi vedere, ho già quegli adesivi verdi. Ecco come usare gli adesivi di WhatsApp. Grazie per aver guardato.